Cinque terremoti in un giorno, terremoto in provincia di Catania 3.6, due scosse nelle Marche 3.9 e 3.6, terremoto in Calabria 3.2, terremoto in Linguria 4.0, uno in provincia di Modena 3.7 e terremoto vicino Lucca 3.2, forse sono più di cinque. Tutte queste scosse nello stesso giorno, giustamente uno si chiede ma che diavolo sta succedendo? Ragazzi sappiate che noi approfondiamo anche queste news, quindi se volete rimanere aggiornati con questi approfondimenti iscrivetevi al canale, sappiamo che molti di voi ci seguono ma non sono iscritti, a voi non cambia nulla ma a noi sì. Beh in realtà se vi iscrivete cambia perché magari ritroverete la notifica approfondimento sui cinque terremoti per esempio. Torniamo a noi tutte nello stesso giorno, come è possibile? So che molti di voi abbiano pensato ma gli esperti dicono che è casuale, ma io non ci credo molto. Vi dirò una cosa, ci sta tutto, cioè non conoscendo certi aspetti tecnici e geologici ci sta avere questo pensiero. Io oggi però vorrei farvi capire perché gli esperti e gli scienziati per esempio degli INGV dicono che non ci sia una correlazione tra questi terremoti. Primo aspetto, partiamo dalla base. L'Italia è un paese sismico, ci sono centinaia di faglie, cioè spaccature della roccia. I terremoti sono il risultato del movimento di queste faglie, cioè se c'è un terremoto vuol dire che la roccia in profondità si è scassata e i due blocchi si sono mossi. Ok? Questa è praticamente l'origine di un terremoto. Questa mappa che vedete riassume bene le più grandi faglie presenti in Italia che possono potenzialmente generare dei terremoti. Come vedete stanno praticamente ovunque. Secondo aspetto, i terremoti quando sono lontani centinaia di chilometri non possono meccanicamente avere una relazione tra di loro, soprattutto in tempi brevi. Diciamo questo nella maggior parte dei casi. Le faglie sono, come vi dicevo prima, delle spaccature, ok? E in quanto tali hanno lateralmente un inizio e una fine. Ho studiato e mappato faglie praticamente per dieci anni. Posso dirvi che sono elementi tettonici anche molto complessi, ma che hanno appunto un inizio e una fine. Quindi un sisma di magnitudo 3-4 in Sicilia non può meccanicamente indurre un sisma nelle Marche o in Liguria. È come praticamente battere un pugno su questa scrivania e pensare che cada il bicchiere sulla scrivania a fianco. Aspetto 3, la profondità. La profondità, qui si sono originati i sismi del 22 settembre, non sono tutti uguali. Alcuni sismi si sono originati a 10-12 km, 13 km. Altri sismi, come a Reggio Calabria, a 55 km. A Folignano, per esempio, ci sono state due scosse. Una alle 12.24 e una alle 12.25. Queste due scosse probabilmente sono correlate. Perché? Perché sono nella stessa zona, sono avvenute alle 12.24 e 12.25 e, questo è un aspetto interessante, l'ipocentro, cioè la profondità della prima scossa, è stata a circa 24 km. L'ipocentro della seconda scossa, quella delle 12.25, sta a 10 km. Quindi probabilmente quello che è successo è che si è mosso qualcosa in profondità a 24 km, ha destabilizzato anche le rocce più superficiali e una delle faglie presenti più superficialmente si è mossa anche essa. Probabilmente lì c'è stata una correlazione. In alcune regioni del mondo, come in Italia, ci possono essere più livelli di faglie. Tipo almeno uno e poi c'è un altro livello, almeno due. In alcuni casi le faglie di questi due piani possono essere legate. E quindi se una si muove, si muove anche l'altra, ok? In tanti altri casi non sono legate. La geologia è così complessa che può succedere tutto, ok? E per definire la correlazione di due eventi è come se fosse un problema a sé. Lo devi studiare nel dettaglio. Quel problema, non puoi prendere un altro problema e utilizzarlo come modello, ok? La geologia è complessa, è così. Quarto e ultimo aspetto. Sapete quante scosse ci sono state il 22 settembre in Italia? 116 sismi. Negli ultimi 30 giorni invece sono state 1.274. E negli ultimi 365 giorni 15.447. Ovviamente la maggior parte di magnitudo bassa, bassissima. Quindi non le abbiamo sentite, la maggior parte delle scosse non le sentiamo, ok? Ma questo ci fa capire che il nostro territorio è sismicamente sempre attivo, sempre. È un continuo. È come se fosse un rumore di fondo. Terremoti ovunque. Ogni tanto, tac, c'è un terremoto un po' più forte. Tac, eccone un altro. E può succedere che un determinato giorno ce ne siano diversi, 3, 4, 5, di magnitudo 3, 3, mezzo, 4, e che ovviamente vedendoli su un titolo di giornale uno dice, mamma mia, che sta succedendo in Italia? Se leggiamo semplicemente la notizia, un titolo, la nostra percezione è diversa. Wow, che sta succedendo? Ma questi sono tutti collegati. Poi, appena approfondisci un po', ti rendi conto che non è così, che la storia è un po' diversa. Come già detto dai colleghi degli NGV, che sono tra i sismologi migliori al mondo, questi 5 terremoti del 22 settembre non sono collegati tra loro. Detto ciò, grazie mille per l'attenzione, in questo video siamo andati un po' a braccio, perché ci sono stati migliaia di commenti ricevuti e volevamo rispondervi nel minor tempo possibile. Ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Jopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!